Ben ritrovati ad Ultima Tg, apriamo con la cronaca con l'operazione che ha portato all'arresto di 21 persone per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Un'inversione di tendenza a una nuova frontiera del traffico di sostanze stupefacenti, trafficanti di droga che non la acquistavano da terzi ma la producevano in casa e questa è la novità dell'operazione della Polizia di Catania che ha portato all'arresto di 21 persone. Il gruppo criminale era abile non solo nella coltivazione ma anche nell'intreccio di diverse sostanze, da qui il nome dell'operazione A Beautiful Hybrid. Tra i destinatari del provvedimento del GIP spiccono tre uomini appartenenti alle forze dell'ordine. C'è l'assistente capo della Polizia, Matteo Oliva, di 46 anni, ritenuto uno dei dirigenti e tra gli organizzatori della banda. Il carabiniere Stefano Cianfarani, di 49 anni, indicato come organico del gruppo. I due, indagati anche per corruzione per un atto contrario ai propri doveri, sono stati arrestati. L'assistente capo di Polizia, Giuseppe Bennardo, di 50 anni, estraneo alla coltivazione di marihuana, è stato posto ai domiciliari per favoreggiamento personale. Avrebbe cercato di eludere le investigazioni sui due colleghi. L'organizzazione ha ricostruito la Polizia, impiantava coltivazione di marihuana nelle campagne di Scordia. Proprio in quella zona era in servizio Cianfarani. per poi vendere la droga, potendo contare sulla protezione del carabiniere e su eventuali controlli investigativi. Durante le indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, il 23 settembre del 2017, la squadra mobile ha sequestrato una piantagione con 2.500 piante di marihuana e ha accertato che gli indagati avevano già predisposto un terreno che sarebbe stato destinato alla coltivazione di arbusti per la produzione di droga. Le indagini della squadra mobile di Catania sono state avviate dopo le dichiarazioni di un pentito del clan Nardo di Lentini, a cui si sono poi aggiunte quelle di un altro collaboratore di giustizia della Cosca, Cappello Buonaccorsi, ma è stato anche grazie alle intercettazioni che gli agenti hanno ricostruito l'intera filiera della produzione di cannabis, evidenziando la competenza degli indagati nelle tecniche della coltivazione. Complessivamente sono 15 le persone arrestate e altre 5 poste agli arresti domiciliari, un ventunesimo indagato e al momento irreperibile. E adesso sentiamo le interviste che Simona Zappalà ha realizzato al termine della conferenza stampa di oggi in Procura. Si tratta di soggetti che producevano loro la sostanza stupefacente marijuana anziché importarla dall'estero. La producevano in terreni nella loro disponibilità, ovviamente terreni di una certa estensione che non potevano essere facilmente occultati senza la complicità anche di alcuni appartenenti alle forze di polizia. In particolare sono stati coinvolti e accusati di corruzione e di organicità all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti un poliziotto, Oliva, e un carabiniere, Cianfarani. Inoltre un terzo appartenente alle forze dell'ordine, un altro poliziotto, Bernardo, è stato accusato e raggiunto da gravi indizi di reità e quindi posto agli arresti domiciliari per favoreggiamento. Si tratta però, e questo lo voglio ribadire, di un frutto, di casi abbastanza sporadici, isolati, di frutti marci, di un albero, quello delle forze dell'ordine, che produce sempre risultati che senza i quali noi non potremmo mai contrastare così efficacemente le forze dell'ordine. L'attività parte dalle dichiarazioni di due pentiti, di due collaboratori di giustizia e di due clan differenti, a cui si sono giunti durante l'indagine, che voglio specificarlo quasi esclusivamente di carattere tecnico. Cioè noi all'individuazione dei soggetti e all'individuazione della piantagione che abbiamo sequestrato il 23 settembre del 2017 arriviamo grazie ai servizi di intercettazione. È chiaro che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati un buon viatico per avviare questa attività e per scoprire questo traffico illecido e questa associazione che si occupava di stupefacenti. Questo è l'aspetto dolente di questa attività, però mi preme dirlo che l'amministrazione ha gli anticorpi e riesce anche con molto dolore a far luce su questi episodi. Ancora cronaca, i finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo su disposizione del GIP di Termini Merese hanno arrestato e portato in carcere Giuseppe Salamone, 49 anni, a capo della Salamone Group SRL, azienda che si occupa di autotrasporti accusato di reati tributari e di trasferimento fraudolento di valori. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato i preventi delle frotti fiscali, circa un milione e mezzo di euro, vincolando conti correnti, mobili, automezzi e quote societarie di quattro imprese nella disponibilità di altri sei indagati. Le indagini, coordinate alla Procura di Termini Merese, sono iniziate dopo alcune verifiche fiscali svolte dalle fiamme gialle nelle aziende gestite dagli imprenditori, nelle quali sarebbe emerso l'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per frodare l'erario. I finanzieri hanno accertato che l'uomo arrestato, che aveva ricevuto due avvisi orali da parte della Questura perché avrebbe frequentato persone della criminalità organizzata o perché ne avrebbe assunto alcuni contigui all'organizzazione, aveva ceduto fittiziamente la titolarità delle quote delle tre aziende, a lui riconducibili a prestanome, con l'obiettivo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Nel quadro aziendale, dice la Guardia di Finanza, il titolare era un dipendente delle imprese. E adesso veniamo alla notizia che avevo anticipato in apertura, un falso studio dentistico è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri dei NAS nel quartiere di Piganello a Catania, due odontotecnici, fratelli gemelli, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione. Apparentemente uno studio dentistico come tanti altri, con la sala d'attesa affollata da tanti pazienti. In realtà, il centro dentistico scoperto e sequestrato dai carabinieri del NAS di Catania nel quartiere di Piganello non disponeva delle autorizzazioni necessarie. La professione era esercitata abusivamente da due fratelli gemelli odontoiatri. Entrambi sono stati denunciati. L'operazione si svolta nell'ambito di un'azione di contrasto dell'abusivismo sanitario. I locali erano dotati di apparecchiature costose e di nuova generazione, cui sono stati messi sigilli. Il provvedimento è stato confermato dalla procura. Al momento dell'intervento dei militari dell'arma, la sala d'attesa era colma di pazienti che attendevano di essere visitati, senza la minima percezione di trovarsi all'interno di una struttura gestita da falsi dentisti e in un luogo che, pur avendo nelle sembianze, di certo non era uno studio odontoiatrico autorizzato. La professione di odontoiatra, ricordano i carabinieri in un comunicato, è esercitabile solo ed esclusivamente da medici iscritti all'apposito albo professionale e in possesso del relativo titolo di laurea. I chiurghi dell'ospedale di Marsala hanno riattaccato le tre dita all'ispettore di polizia Gianni Aceto dopo l'esplosione di una chiavetta USB avvenuta in procura a Trapani. L'intervento è riuscito e le condizioni generali del ferito, che ha riportato altri traumi di minore entità sono buone. La chiavetta USB era stata recapitata oltre un anno fa all'avvocato civilista Monica Maragno. La professionista ha ricevuto una busta con l'intestazione consiglio ordine avvocato Trapani contenente il dispositivo elettronico nel suo studio. Appena ha ricevuto il plico ha chiamato il consiglio forense per sincerarsi se fosse il mittente. Appreso che da quell'ufficio non era stato inviato nulla, ha preferito rivolgersi agli organi di polizia consegnando la chiavetta. Il corpo del reato evidentemente è rimasto per parecchi mesi parcheggiato e solo ieri mattina la polizia giudiziaria l'ha presa per visionarla. Potrebbe finire in procura l'istanza di annullamento in autotutela presentata per conto della Feder Noleggio sulla assegnazione a lati Etna Mobility per la concessione della pista rotabile piano provenzana Etna Nord. Secondo i legali dell'organizzazione alcuni mezzi in uso non sarebbero idonei. Nel ricorso si cita anche quanto fatto dal comune di Lingua Glossa. In maniera apodittica attraverso il responsabile del procedimento di gara, affermano i legali della Feder Noleggio, è stato dichiarato labialmente che i mezzi dell'ati erano in possesso di licenze idonei. Secondo gli avvocati invece i veicoli non sarebbero in regola. Vediamo. Annullamento in autotutela previa sospensione urgente degli effetti dell'assegnazione a lati Etna Mobility della concessione della pista rotabile piano provenzana Etna Nord. Recita così un passaggio dell'istanza di annullamento in autotutela che è stata presentata dagli avvocati Orazio Giovanni Vecchio e Pierpaolo Lucifora per conto della Feder Noleggio Confesercenti di cui è presidente Giuseppe Contraffatto in relazione ai mezzi in uso nell'ambito del progetto ATI Etna Mobility. Gran parte di questi automezzi non sono adibiti al noleggio conducente per il trasporto di persone a pagamento e quindi non sono in regola con quanto previsto dal bando e con la normativa di settore. Ovviamente i mezzi adibiti al trasporto di persone a pagamento hanno una normativa particolare molto stringente, ad esempio gli automezzi sono soggetti alla revisione annuale anziché a quella biennale come i mezzi adibiti all'uso privato, ad esempio le assicurazioni hanno dei massimali più alti, i conducenti devono avere una idonea abilitazione alla guida, ecco tutto questo nel noleggio senza conducente non esiste. Una situazione che secondo l'avvocato potrebbe avere ripercussioni anche sui turisti. Per i turistici potrebbe essere anche un rischio perché le assicurazioni potrebbero anche non pagare un eventuale sinistro per il fatto che l'autovettura che è immatricolata ad uso privato avesse un uso improprio. Nella memoria dei ricorrenti si scrive che esiste un'interpretazione della normativa rappresentata dal legale dell'ATI ma viene ritenuta insufficiente. Non ci convince perché la documentazione che è stata prodotta attiene alla possibilità delle agenzie di viaggio e ad esempio degli albergatori di avere delle proprie autovetture quindi immatricolate a nome dell'albergatore o a nome dell'agenzia di viaggio per il transfert cioè per il trasporto breve per tratti brevi dei propri clienti non so verso l'aeroporto verso il porto eccetera. Questa normativa che loro richiamano non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione al noleggio con conducente, non ha nulla a che vedere in generale con quanto previsto proprio dal bando perché il bando prevedeva proprio che gli automezzi dovessero essere adibiti al trasporto a pagamento con lo conducente. Una vicenda ingarbugliata che si legge nella memoria potrebbe avere come deriva la segnalazione alla procura della Repubblica anche perché per il momento non è giunta alcuna risposta. Il prossimo passo chiaramente sarà un esposto perché noi abbiamo presentato una istanza in autotutela alla fine del mese di luglio evidenziando queste problematiche ma ad oggi non abbiamo ottenuto alcuna risposta e questo dispiace perché fino ad ora il Comune di Lingua Glossa, l'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni in generale da parte di Federnoleggio Sicile con Fesercenti è stata sempre una interlocuzione di collaborazione. Non capiamo quali possono essere le ragioni. Peraltro noi riteniamo che il Comune di Lingua Glossa in tutto questo sia stato danneggiato. Sconcerto al centro Padre Nostro fondato da Don Pino Puglisi a Palermo il cui presidente Maurizio Artale è stato coinvolto in un diverbio in cui un uomo gli avrebbe detto hanno fatto bene ad ammazzare Uparrino riferendosi al beato ucciso dalla mafia. Sentiamo. Non si può parcheggiare e parte la frase che lascia sgomenti. Hanno fatto bene ad ammazzare Uparrino è accaduto davanti il centro Padre Nostro di Palermo dove durante un diverbio la frase è stata pronunciata rivolta al presidente Maurizio Artale e riferita al beato ucciso dalla mafia 25 anni fa. Forse loro pensavano che andato via il Papa finita l'emergenza potevano ritornare a posteggiare dall'altra parte. Ma i vigi urbani hanno fatto bene a dire manteniamo lo stato di legalità in questa piazza e quindi hanno detto no, se noi troveremo le macchine lì sopra dovremmo elevarvi le multe. Secondo me questa cosa lì ha un poco surriscaldati, specialmente questa persona che ha iniziato col problema del posteggio, della moto e io fino a quel momento stavo lì ad ascoltarlo e cercavo di fargli capire il significato proprio di quella piazza, della venuta del Papa. Ma lui ha detto che non gliene fotteva niente del Papa, del sindaco che era un coinnuto che non gli dava il lavoro. Poi però come non ha detto hanno fatto bene a Mazzaro Parrino e a quel punto ho capito che la cosa andava a oltre. Sconcerto al centro dedicato all'azione di Dompino Pulisi anche perché nessuno è intervenuto. E non è tanto il fatto del posteggio, il fatto che lui mi abbia aggredito verbalmente, ma è quello che significa che lui scende in una piazza e davanti a tutti si espone in questa maniera. Perché devo dire la verità, lui almeno ci ha messo la faccia nella sua brutta espressione che ha fatto. Gli altri invece sono nascosti perché non è sceso nessuno a cercare di mitigare questa situazione o anche a riportare alla ragione questo signore stesso. Quindi questo mi ha fatto molto riflettere. Tra i controlli insufficienti e la mancanza di civiltà a Catania sembra non avere fine il problema dell'emergenza rifiuti. Tante le zone coinvolte, tra questa la cosiddetta Fere a Lumi in pieno centro storico. Continua a Catania l'emergenza rifiuti. Un problema che coinvolge tutta la città, dalla periferia al centro storico, dove interi quartieri sono ricoperti da cumuli di rifiuti. Le misure adottate finora dall'amministrazione sembrano purtroppo non bastare, ma peggiorare ulteriormente una situazione ormai diventata insostenibile e anche l'inciviltà di quanti continuano ad abbandonare i propri rifiuti per strada. Secondo me l'inciviltà dei cittadini c'è perché ancora si devono abituare ad essere un pochettino più puliti perché se non ci aiutiamo noi stessi ad essere più puliti la città resta sempre sporca. I cassonetti attualmente nelle zone non ci stanno, perciò le persone non fanno altro nelle ore che noi non ci siamo, scendono dal palazzo, la mettono davanti al portone però se la prendono la spazzatura, però dopo non si capisce perché la mattina ci sarà sempre qualche pochettino di spazzatura in qualche ancolo o in qualche posto degli operatori. Al centro storico ci sono parecchi pub e parecchie B&B, gente che vengono da fuori non sanno dove mettere la spazzatura, la lasciano dopo. Noi chiediamo all'amministrazione che almeno la mattina qualche macchina di quella piccolina per poter passare o qualcuno sempre dalla nettezza urbana per poter vedere dove poter pulire. Noi siamo un centro commerciale all'aperto e vogliamo i nostri diritti perché poi noi paghiamo i servizi, non è che gli vogliamo gratis. Di attenzionare questi punti della città, lo so che ci sono altri punti della città che hanno lo stesso problema, ma noi dobbiamo difendere la nostra zona. Questo mercato è l'occhio di Catania perché ci sono tanti B&B e vengono 2.000 turisti e non è bello fare vedere Catania così bella però che sta pozzando. Ovviamente noi da tempo cerchiamo di sensibilizzare tutti i siciliani a fare raccolta differenziata in particolar modo per quanto riguarda i catanesi invitiamo a segnalare sul numero Whatsapp messo a disposizione di tutti della Dasti, coloro che vediamo buttare i rifiuti in orari non consoli, solo con la denuncia, solo con le nostre segnalazioni possiamo bloccare quanti hanno deciso che questa città debba essere stracolma di rifiuti nonostante si continuino a fare le pulizie. Si tiene di protesta stamani davanti la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catania organizzato per sensibilizzare i numerosi problemi in cui la categoria è costretta a fare i conti ogni giorno. Una pentola sul fuoco, piatti e posate, è iniziata così la protesta del sindacato USB dei Vigili del Fuoco, un presidio organizzato per offrire simbolicamente un pasto a tutti quei lavoratori che da ormai sette mesi non ricevono i buoni pasto loro dovuti. Il pasto caldo è l'espressione dello striscione Sicilia Soccorso in Tilt e lo stato di salute in cui versano i Vigili del Fuoco in Sicilia. I buoni pasto ormai sono sette mesi che i lavoratori non percepiscono e quotidianamente devono mettere i soldi di tasca proprio per poter soffrire di un pasto caldo anche durante le emergenze. Noi questo non lo possiamo più ammettere, vogliamo risposte certe. Oltre a questo vogliamo capire perché il problema è soltanto in Sicilia e nelle altre regioni invece questi buoni pasto li hanno recepiti. Ma i problemi che coinvolgono la categoria sono purtroppo numerosi, dalla carenza di personale alla mancanza di mezzi adeguati. Diciamo alla politica basta, non ve lo possiamo più ammettere di metterci i pacchi sulle spalle e poi non mantenere fatti. Altra problematica di rilievo sono le assunzioni. Le assunzioni che avevano promesso sono 3.200 entro il 2019. Allo stato attuale sono andate a scemare queste assunzioni e noi abbiamo i precari storici dei Vigili del Fuoco che aspettano l'assunzione. Nella legge di stabilità del 2017 era previsto per quest'anno il bando. Allo stato attuale questo non è avvenuto. Oltre a loro ci sono degli doni che aspettano di essere messi in ruolo e potrebbero colmare questa enorme carenza di organico che c'è in tutta Italia. Sono stati aggiudicati in via definitiva con due distinte procedure a gara aperte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i lavori relativi alle strade del parco urbano della città satellite, i lavori della cosiddetta spina verde ovvero le opere di urbanizzazione della zona castagnola sempre a Librino. Le opere rappresentano altri due tasselli dell'impianto urbanistico ideato nel 1972 dall'architetto giapponese Kenzo Tang che aveva immaginato il quartiere a sud di Catania attorno a una serie di percorsi pedonali e ciclabili immersi nel verde con collegamenti tra residenze e servizi. Questi interventi i cui cantieri apriranno immediatamente fanno parte del cosiddetto patto per lo sviluppo di Catania. L'intervento del parco urbano giudicato per un importo netto di 2 milioni di euro fa parte degli obiettivi individuati nel settore ambientale nel quale sono previsti due lotti del parco urbano dei quali questo è il primo. Con questa scelta si intende favorire lo sviluppo economico e produttivo dell'area metropolitana e la sua sostenibilità ambientale e di sicurezza. E a proposito di sostenibilità ambientale in anteprima per Ultima News la presentazione delle giornate FAI d'autunno a Catania per noi Marilisa Spironello. Io ricordo di essere nata. Io ricordo di essere nata qui. Il progetto effettivamente porta il nome di Sorgiva dalle fonti del benessere alle fonti del sapere. Noi gruppo FAI giovani della delegazione FAI di Catania abbiamo raccolto l'invito che il FAI centrale ha dato a tutti i gruppi giovani, ossia di dedicare i loro percorsi di apertura delle giornate FAI d'autunno al tema dell'acqua. Un tema naturalmente molto delicato perché se da un lato chiaramente caratterizza nel senso estetico e dunque della bellezza le nostre città, dall'altro naturalmente rappresenta una fonte esauribile che va mantenuta, rispettata e in qualche modo recuperata. Quindi traendo spunto da questo tema abbiamo deciso di creare un percorso chiaramente tematico che affrontasse le aperture che sono strettamente da un lato legate all'acqua. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre apriremo i siti termali, quali nella fattispecie le terme achilliane, le terme della rotonda, le terme dell'indirizzo. Ma come gruppo non ci siamo voluti limitare solo all'apertura dei siti termali che già di per sé rappresentano un eccezionale splendore per la nostra città ma anche i siti universitari perché ci siamo resi conto come giovani che effettivamente la fonte, l'arricchimento, il nutrimento possono essere fisico ma possono essere anche culturale, spirituale ed è per questo che abbiamo pensato anche alle biblioteche più importanti della città e ai siti universitari più importanti e quindi il Palazzo del Rettorato, la Villa Zingalitetto, la Scuola Superiore di Catania, Villa Sanseverio che chiaramente in qualche modo anche sensibilizzano l'utenza stessa dei siti, i giovani studenti a poter partecipare in maniera attiva alle giornate e infine il sito riservato così come il FAE ci chiede di coccolare i nostri iscritti, i nostri sostenitori abbiamo deciso di aprire al pubblico la biblioteca Ursino Recupero che già di fatto è aperta ma con una particolarità ossia l'apertura del museo studio dedicato a Mario Rapisardi Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità subito dopo lo sport Ci sono cose che sappiamo di sapere, ci sono cose che sappiamo di non sapere, ma soprattutto ci sono cose che non sappiamo di non sapere L'università è curiosità e scoperta e sfida con se stessi e confronto con gli altri L'università che sceglierai sarà la tua università Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa Patrimonio dell'UNESCO, la Funivia dell'Etna Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada ti porterà fino ai 3000 metri di quota Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa E se sei un tour operator, contattaci GTA Informatica Un mondo di innovazione a portata di mano GTA Informatica Vendita a computers e accessori Assistenza tecnica Connettività ADSL Registrazione di unini Siti web Networking E-Business Services GTA Informatica Via Kennedy 56 Di fronte parcheggio Livatino Acireale Collegati su www.gte.it L'agenzia MG Pratiche Auto di Via Alberto Mario 11 a Catania È la risposta a chi ha poco tempo e problemi da risolvere Specialisti in tutte le pratiche automobilistiche L'agenzia Messina si occupa dal rinnovo patenti Ai passaggi di proprietà Ai consigli sulla giusta assicurazione da scegliere E tanto altro ancora Vi aspettiamo nella nostra sede In Via Alberto Mario 11 a Catania Per risolvere i vostri problemi senza stress Allora Domenico Vatti a sistemare Che oggi ti sfido Sono a un livello difficilissimo Tranquillo papà Non fare danni Ti sta chiedendo Sì o no Ma tu Non conosci la Morgan School Morgan School Ah Conosci In casa Palermo si riprende domani pomeriggio In vista della prossima gara contro il Lecce Intanto la cura stellone Ha avuto un effetto immediato Ha convinto gli scettici a rimanere in rosa Per conquistare la promozione Nestorowski ha segnato il gol vittoria Rispoli ha esordito dopo quattro mesi di inattività Il portiere Pomini è felice di giocarsi il posto con Brignoli Roberto Chifri ha sentito il suo agente In una squadra il ruolo del portiere è quello più delicato Dalle stelle alla polvere in 90 minuti Alberto Pomini lo sa bene Arrivato lo scorso anno per fare da Chioccia a Posavec Nel giro di un paio di mesi ha tolto il posto al croato a suon di prestazioni Pomini ha chiuso la stagione increscendo Divenendo un punto inamovibile dello scacchiere rosa Ma quest'anno dovrà giocarsi il posto con Brignoli Arrivato a titolo definitivo dalla Juventus Quando abbiamo accettato di venire qui L'abbiamo fatto con il massimo professionale e il massimo entusiasmo E abbiamo sposato una causa del Palermo Nella speranza di poter vincere anche questa battaglia Che è quella di riportare il Palermo dove merita di stare Come piazza e come società L'anno scorso siamo andati vicinissimi All'inizio eravamo venuti qui per comunque Partecipare a un progetto Per far crescere Posavec Magari andare in campo quando era il momento Quest'anno c'è Brignoli È una sana concorrenza Non c'è problema Stiamo lavorando per il Palermo Quindi andiamo in campo Non andiamo in campo L'impegno è sempre massimale Nella speranza ovviamente che un domani Ci possa essere bisogno di noi Siamo pronti Nessuna cessione Nessun mal di pancia Pomini ha scelto Palermo E ha deciso di rimanere Nonostante il momento sia una seconda scelta Ma sa bene quella che è la solitudine del portiere E con Brignoli si giocherà il posto Alberto si è ambientato subito Benissimo qui Sia calcisticamente che a livello di vita Con la sua famiglia si trova benissimo Non ci ha pensato minimamente ad andare via Al di là degli obiettivi personali L'obiettivo per Pomini Così come per il resto della squadra Resta soltanto la Serie A Alberto l'anno scorso ha dimostrato Il suo reale valore Ed è pronto a farlo in qualsiasi momento Per il bene del Palermo Quindi bisogna in questo momento essere tutti uniti Per quello che è l'obiettivo Cioè cercare di tornare in Serie A Perché nonostante tutto il Palermo Rimane una squadra molto forte Bene era questo l'ultimo servizio Per quanto riguarda questo appuntamento Con l'informazione su Ultima TG Vi ricordo che i servizi più importanti Compresa la conferenza stampa per intero Della Procura e dell'operazione di oggi La potete trovare sulla nostra pagina Facebook Per le segnalazioni in luma della nostra redazione A vostra completa disposizione Grazie e buon pomeriggio a tutti voi Grazie a tutti